Ciao a tutti e bentrovati in questo nuovissimo video. Se state guardando questo video anche per puro caso, per sbaglio, no? Significa che sto in ferie. Sto in ferie ma non vi lascio a secco di video, ve ne lascio almeno uno al giorno. Oggi cominciamo, non so se questo lo metterò per primo, ma vediamo. Comunque mi assenterò una settimana, quindi metterò circa sette video, uno al giorno. Vedo se ne riesco a mettere di più. Comunque, andiamo su un argomento di assoluta curiosità, perché c'è chi magari già sapeva questa cosa, ma ci chiediamo, ma che ci deve fare un tappo di sughero all'interno del frigorifero? Ebbene, forse non avete mai sentito parlare di questo trucchetto, perché di trucchetto si parla, ma d'ora in poi fareste bene a tenerlo a mente, perché può dare effettivamente una svolta al modo in cui ti prendi cura del tuo elettro domestico, quindi è una cosa positiva per il frigorifero. Il frigo è un compagno insostituibile in cucina, ci serve. Tiene freschi gli alimenti, consente di conservarli rallentandone il deterioramento, perché la sua missione riesca al meglio, però è anche importante saperlo utilizzare nel migliore dei modi, quindi andandosi a preoccupare della sua manutenzione. Ogni tanto, infatti, andrebbe pulito, e anche farlo per bene. Anche se sappiamo bene quanto si antipatica questa procedura, soprattutto perché non richiede poco tempo. Eh, dobbiamo togliere tutto, aprire i cassetti, insomma, c'è un sacco di cose da fare. Detto ciò, oggi vi parlo però del trucco col tappo di sughero all'interno del frigo. Questo serve a prevenire la comparsa di cattivi odori al suo interno. Diciamo che è una escamotage alla portata di tutti, vista l'economicità del tappo di sughero, che nel senso che costa proprio poco, cioè costa quasi niente, e anche la sua facile reperibilità, cioè dove si va a prendere, no? Come procedere quindi per avere un frigo non solo pulito ma anche privo di odori che ci farebbero chiudere immediatamente lo sportello? Basta tagliare il tappo di sughero a metà altezza, poi aggiungere una o più gocce di oli essenziali dalla fragranza, che più amiamo, e poi riporlo nel frigo. Un esempio? Che ne so, una profumazione agli agrumi non sarebbe poi male, sempre se vi piace. Il tappo, che è stato così aromatizzato, va poi posto in un bicchiere o in un piattino piccolo, e riposto all'interno del frigo. Successivamente, nei giorni a seguire, in frigo ci sarà un gradevole odore, e ovviamente quelli cattivi nausebondi verranno del tutto assorbiti. L'unica accortezza da avere, mi raccomando, è che il tappo di sughero andrebbe sostituito una volta ogni 3-4 giorni al massimo, quindi non vale per quelle vacanze che prevedono tipo 20 giorni di assenza o cose così, ma se ci siete è meglio. Una precauzione non impegnativa è che possiamo adottare senza troppa fatica in cambio di un frigo privo di odori cattivi. Oh, come si dice, provare per credere. Questo è tutto per questa notizia di assoluta curiosità, vi ringrazio per l'ascolto, spero vi sia utile il consiglio, e alla prossima.